Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo fantastico video. Allora, oggi siamo in Super Mario Run, che lo potete scaricare gratis, sia su Nintendo che sia su telefono. Se sentire il rumore, è il mio fratello che sta facendo un po' di casino. Ok ragazzi, cominciamo a giocarcela bene. Allora, Super Mario Run vi daranno il tutorial automaticamente, quando voi giocherete, quando voi giocherete per la prima volta. Comunque, allora io ogni volta cambierò video, perché non mi voglio farlo, come posso dire, annoiarvi. Perché poi sarebbe noioso fare sempre lo stesso video, fare sempre lo stesso gioco. Quindi io cercherò di cambiare, ogni volta. Tra cui, Super Mario Run è brello perlomeno, perlomeno cammina da solo, quindi lui decide se muoversi oppure no. Rispetto all'altro gioco, sembra più difficile, diciamolo così. Ok, ed eccoci qua. Come nella versione console, ci sono sei mondi. Ci sono dei mondi in cui tu devi superarli. Uuh, l'abbiamo finito, che fortuna. Ci sono sei mondi da superarli. Però, rispetto alla versione della console, i livelli sono pochissimi. Sono circa 24. Ok. Aspetta. Ok, ragazzi, bentornati. Allora, 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 però, allora, c'è un po' di caricamento perché avevo perso la connessione. Quindi ho fatto così. Quindi non vi volevo far aspettare. Quindi ho messo pausa la registrazione. Ok, adesso dobbiamo cercare di finire questo livello. Questo livello, rispetto agli altri, è un pochino più complicato perché ci sono questi copp, oppure come si chiamano. Un pochino più complicato perché ci sono questi copp, oppure come si chiamano più complicato perché ci sono questi copp, oppure come si chiamano più complicato. Sì, tu, voi, voi non mi avrete. Sì, e siamo arrivati pure sulla vetta. Ok, in realtà è... Ok. Ragazzi, stiamo andando molto bene. Abbiamo avuto tre stelle. Rispetto al livello precedente. Ok, cominciamo a fare il quarto, ragazzi. Il quarto è il castello di Browser. Eh, no, il castello di Browser è questo. Infatti si sta chiedendo un aiuto. Help me, help me. Allora, dobbiamo fare il castello... Il mini castello di Browser Yuno, credo. Vediamo. Ah. Comprano le viste di Spirb, ok. Uno, quattro. Ah, la coglie monete rosa, ok. Ragazzi, abbiamo avuto un problemino. Allora, cominciamo a fare queste. Allora, io vi lascio qua. Ci rivedremo dopo. Allora, ragazzi, allora... Praticamente le monete... Allora, qua dovevamo delle sfide create da Browser. Per esempio, dovevamo avere il 100 Todd o prendere le monete rose. Oppure un'altra sfida che non mi ricordo. Allora, io ho fatto la sfida delle monete rose. Il problema è che ci ho messo un po' di tempo. Però ce l'ho fatta. Allora, cominciamo a riprendere il video. Forse non sei... Forse non sei così, pappamole, come pensavo. Ti attendo nel castello del mondo 1-4. Ta-da! Ok, ragazzi. È il problema di fare questo. Iniziamo. Ok, stiamo appesi nel castello di Browser. Ragazzi. Ragazzi, se riusciamo a finire a primo colpo, il mondo 1 voglia per o meno due like. Anzi, no, un like. Per o meno. Anzi, no, vi offro una sfida. Se questo video arriva a un like, farò pure la seconda parte di Sue e Mario Run alle 15 e mezza. Alle 5 e mezza. Se questo video arriva a un like. Ripeto. Mamma mia che... Ragazzi, l'ho lì, mi ha lasciato. Oh, oh. Ma sale, beh.